Buongiorno ragazzi, come vi ho anticipato ieri, sono passato al volo, oggi c'è l'operatore e questi filmati andranno sul portale di Giovani Promesse, giustamente sarà visto da tanta gente perché qualcuno ha cominciato a fare qualche domanda a Gian Maria, ad Alberto, noi adesso faremo tutto quanto il percorso dopo tutto il percorso mi confronterò insieme ai miei collaboratori, a Primo, a Alberto, a Gian Maria e a Vincenzo che faranno delle considerazioni su di voi, che percorso prende e che cosa fa, capire chi, come, dove, mandarlo chi è pronto per fare certi percorsi o chi è ancora certo e deve fare altri passaggi per arrivare a un certo tipo di obiettivo ok ragazzi, qua c'è il signor Mario che è l'operatore, che oggi girerà, lo vedete in campo e mi raccomando, non facciamoci scappare paroacce, qualche sarà, ok, va bene ragazzi, comportiamoci menù del giorno per un discorso televisivo, oggi faremo il classico riscaldamento che i mister faranno poi ci sarà del lavoro di trasmissione, di infezione, di fase statica cosa vuol dire in fase statica? Non lo so, da fermo, bravissima, e poi in fase dinamica lavoreremo su queste cose qua, poi dopo chiuderemo con una partitella perché serve a Mario per il quadrato nel pomeriggio saranno tutti i tornini, partitelle e queste cose, ok, va bene, sono stato chiaro? comportiamoci bene, mi raccomando, perché c'è l'operatore che fa le immagini, ok, sarà qua, nei due campi adesso parte subito con i portieri, scusate il ritardo ma purtroppo non è colpa nostra è una piccola incontrazione con il custodio ragazzi ci dividiamo al solito, il gruppo di mister Berlindieri dai, dividiamoci, dai, veloci, 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 veloci ragazzi, qui noi grazie 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 forza ciccio Alzo il braccio, facciamo il braccio in posto. Alzo il braccio, facciamo il braccio. Grazie. 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 Due. Stavissimo. Vai giù bene col corpo. Non ti girare verso la porta quando ti rialzo. Un minuto lavoriamo. Piazzati verso il campo. Veloce, veloce, veloce. Due. Bravo. Uno. Vi attaccala. Perché l'aspetto? Attaccala. Ti stai rimbalzando. Dai, dai, dai. Palle vere. Due. Passo laterale. Teniamo sempre la solita riscata. 20 secondi. Dai, dai. Uno. Bravo. Due. Bravo. Basta, basta. Cambio. Uno. Andiamo. Due. È la caduta Giuseppe. Così. Attaccala due. Uno. Siamo? Tre, due, uno, via. Andiamo. Uno. Andiamo. Ehi. Più aggressivi. Veloce, veloce. Due. Attaccala. Uno. Si attaccala un attimo. Bravo. Dai. A destra. Buona. Buona. In un attimo. Buona. Quei passi. Ehi. Ragazzi, scusate... Ok, stop. Adesso non giocherò più. Dai, diamo, diamo. Riponderò soltanto a destra. Bravo, bravo il primo palo, bravissimo, siamo in uno, vai, addosso, tranquillo, tranquillo, bravo, posizione, messo bene, vai, vai con due, hai tempo per andare con due, vai, posizione, basso, basso qui un attimo Federico, non stare troppo alto, vai basso, vai basso, hai tempo per andare troppo alto, è quello che l'hai fatto, ok god live e Grazie a tutti.